buongiorno questo è daily prime pagine il podcast dell'ansa per dare un'occhiata ai titoli e alle notizie delle prime pagine dei principali quotidiani nazionali e approfondire i temi più interessanti con la lettura di un articolo di giornalisti e giornaliste della prima agenzia di stampa italiana oggi è giovedì 18 aprile 2024 e questa edizione è curata da michela nana che vi auguro una buona giornata sono diversi titoli di apertura dei quotidiani nazionali in evidenza rimangono i conflitti in medio oriente e in ucraina per il primo c'è israele che prepara l'attacco all'ira in risposta al blitz con i droni della notte di sabato scorso mentre sbolla colpisce con un ride in galilea il g7 dice sì alle sanzioni contro l'iran ma precisa che va evitata l'escalation in primo piano per la politica interna le inchieste giudiziarie che colpiscono la politica bufera sulla regione sicilia dove il vice presidente della giunta e assessore all'agricoltura della lega luca san martino è stato sospeso per un anno dalle funzioni pubbliche con l'accusa di corruzione in un'inchiesta su presunte infiltrazioni mafiose dopo puglia e torino il ciclone giudiziario investe la sicilia in evidenza sulle prime pagine anche le novità a scuola con il via libera del senato al disegno di legge del ministro val di tara studenti bocciati con il 5 in condotta partiamo con il corriere della sera che titola israele sceglie gli obiettivi dopo l'attacco da parte dell'iran di sabato scorso il consiglio di guerra ristretto sta ancora discutendo i modi ai tempi della rappresaglia per il lancio di oltre 300 tra droni e missili lo stato maggiore l'intelligence militare spalleggiati da gallant spingono per un contrattacco a breve il premier netanyahu risponde alla tedesca baerbock al britannico cameron in visita in israele per chiedere moderazione prenderemo le nostre decisioni da soli e faremo tutto il possibile per proteggere i cittadini il presidente iraniano ebraim raizi ha avvertito che anche la più piccola aggressione sul suolo iraniano da parte di israele porterà a una risposta potente e feroce raizi ha parlato durante la parata annuale dell'esercito spostata alla periferia di teheran e senza copertura televisiva e ha detto che l'attacco di sabato notte è stato limitato e che se l'iran avesse voluto effettuare un'operazione più grande nulla sarebbe rimasto del regime sionista proseguiamo con la repubblica che apre con le inchieste giudiziarie sulla politica questa volta è la lega ad essere coinvolta nell'indagine dei pm di catania coinvolto luca san martino numero 2 di schifani e uomo di salvini nell'isola come spiega repubblica è accusato di corruzione si vantava di aver raccolto preferenze per la dem chinnici e criticava il carroccio arrestato anche un sindaco le intercettazioni dei carabinieri spiega il quotidiano nelle pagine interne disposte dalla procura etnea svelano cosa c'era dietro la grande ascesa dell'ex esponente del pd diventato l'uomo forte della lega in sicilia tanto da ricoprire attualmente non solo la carica di deputato regionale ma anche quelle di assessore all'agricoltura e di vicepresidente della giunta schifani adesso luca san martino è sospeso da tutti gli incarichi per un anno così è deciso la gp di catania carla aurora valenti nell'ambito di un'inchiesta che riguarda anche un patto elettorale politico mafioso stipulato dal sindaco di tre mestieri etneo san dirando fedelissimo di san martino con esponenti del clan santa paola il primo cittadino ora è in carcere proseguiamo la nostra rassegna nelle prime pagine con la stampa che dedica la foto a centro pagina al ritorno del voto in condotta sì del senato al disegno di legge che reintroduce la valutazione del comportamento il ministro val di tara responsabilizziamo i ragazzi ma le opposizioni parlano di un modello che è punitivo quindi in sintesi dal prossimo anno scolastico spiega al quotidiano il sistema cambia anzi viene rivoluzionato il 5 in condotto equivale alla bocciatura sia nelle scuole medie che nelle superiori dove il 6 impone agli studenti di superare una specie di esame di riparazione per accedere alla classe successiva o essere ammessi all'esame di stato senza almeno il 9 in condotta per tutto il triennio finale poi sarà impossibile ottenere il 100 alla maturità al fianco di val di tara l'associazione nazionale presidi come conferma il presidente antonello giannelli abbiamo assistito a un numero di episodi che hanno fatto dire a tutti che serviva una stretta sulla libertà di comportamento spiega perché abbiamo ritenuto in modo abbastanza unanime che certi modi disinvolti di comportarsi a scuola non fossero accettabili proseguiamo con il messaggero che dedica un titolo di apertura alle proteste anti israeliane la sapienza di roma che non si placano dopo gli scontri di martedì nel corso della manifestazione a sostegno della palestina iniziata all'interno dell'ateneo e poi proseguita nel vicino quartiere universitario adesso l'ipotesi è quella di anarchici infiltrati tra gli studenti la digos infatti come spiega il quotidiano nelle pagine interne sta visionando le immagini girate dalla scientifica in quei momenti di sicuro c'erano degli infiltrati anarchici e un uomo dell'udap associazione nata agli inizi degli anni 2000 che riunisce gli attivisti palestinesi in italia si tratta di jihad otnam un'ex appartenente a formazioni terroristiche palestinesi già arrestato per l'omicidio di una giovane iraniana e il ferimento del vice consul degli emirati arabi in un attentato avvenuto il 26 ottobre 1984 sulla via cassia a roma la sapienza cittadella universitaria aperta per antonomasia in questo momento spiega il quotidiano rischia di fare da calamita per il mondo antagonista e le associazioni filo palestinesi in una fucina di idee e azioni in ebollizione passiamo ora al quotidiano economico il sole 24 ore che dedica un titolo di apertura al debito pubblico mondiale che sarà al 100 per cento del pil nel 2029 insieme a cina stati uniti regno unito l'italia fa parte del gruppo di grandi economie che trainerà la crescita del debito pubblico mondiale verso il 100 per cento del pil nel 2029 e per le quali sarà critico adottare politiche per affrontare lo squilibrio tra spese ed entrate lo scrive il fondo monetario nel fiscal monitor il rapporto sullo stato dei conti pubblici presentato ieri a washington stati uniti e cina sono proprio le due superpotenze globali a preoccupare il fondo sulla base delle politiche attuali il loro debito pubblico continuerà a crescere a livelli record fino quasi a raddoppiare entro il 2053 il debito pubblico usa sale dal 123 per cento del pil nel 2024 al 134 per cento nel 2029 era al 108 per cento nel 2019 il debito pubblico cinese supererà il 110 per cento nel 2029 dall 88,6 per cento nel 2024 era al 60 per cento nel 2019 è anche l'effetto del grande anno elettorale spiega il quotidiano un numero record di paesi tra cui appunto gli usa hanno già tenuto otterranno elezioni per quanto riguarda il debito pubblico italiano è stimato dal fondo al 139,2 per cento del pil quest'anno e in crescita al 140,4 per cento nel 2025 fino a un soffio dal 145 per cento nel 2029 mentre il def stima al 137,8 per cento quest'anno e il 138,9 per cento nel 2025 chiudiamo la nostra rassegna con il quotidiano nazionale che dedica un titolo di apertura alle tensioni in italia sulla legge 194 con le critiche di madrid a roma mentre la francia inserisce il diritto all'aborto in costituzione e il parlamento europeo da disco verde alla sua entrata nella carta dei diritti fondamentali in italia l'interruzione volontaria di gravidanza non smette di travalicare l'ambito più intimo della coscienza per animare lo scontro politico sul corpo e la volontà delle donne dopo il via libera di martedì all'emendamento di fratelli d'italia al decreto legge sul pnrr diretto a coinvolgere nei consultori familiari realtà del terzo settore a sostegno della maternità ieri sempre a montecitorio è stato bocciato l'ordine del giorno dei 5 stelle che lasciava fuori dagli stessi consultori chi ideologicamente orientato vuole scongiurare l'applicazione della legge 194 che legittima l'aborto la scelta di far accedere nei consultori provita ha sollevato critiche anche all'estero in prima fila ana redondo e rene montero attuale ed ex ministra delle pari opportunità della spagna un'invasione di campo che non è piaciuta né alla premier giorgia meloni madrid non dia lezioni all'italia e al ministro per la famiglia eugenia roccella prima di commentare si leggano i testi delle leggi chiudiamo la nostra rassegna con un servizio dell'ansa di giovanni mennillo da firenze sul caso del calciatore di 26 anni che accusato un malore durante la partita ed è poi morto medici ambulanza in ritardo e nessuno che sapesse usare il defibrillatore sono accuse pesanti quelle del papà di mattia gianni il calciatore 26 n del castel fiorentino united che domenica scorsa ha accusato un malore durante una partita con il lanciotto a campi bisenzio ed è deceduto poi lunedì mattina all'ospedale di careggi di firenze la procura ha aperto un fascicolo ipotizzando l'omicidio colposo ma al momento non ci sono persone iscritte nel registro degli indagati il pm giuseppe ledda disporrà l'autopsia che si terrà nelle prossime ore per fare maggiore chiarezza sulle circostanze della morte e in vista di questo passaggio non è escluso che emetta degli avvisi di garanzia ma intanto i genitori attaccano sulla tempistica e su eventuali negligenze nei soccorsi non c'era né l'ambulanza né un medico sostiene il padre di mattia sandro gianni solo i massaggiatori della squadra il defibrillatore è arrivato in un secondo momento ma nessuno lo sapeva usare è come se non ci fosse stato solo quando è arrivata la seconda ambulanza con il medico sono state tirate fuori tutte le apparecchiature è stato usato il defibrillatore ma ormai era troppo tardi i genitori annunciano di voler procedere per vie legali non tanto per accanirsi con la società o con il 118 ma per portare quanto accaduto a nostro figlio alla ribalta e perché non accada ad altri ragazzi in futuro se succedessero ancora episodi simili ha aggiunto gianni che domenica era sugli spalti dello stadio assieme alla moglie debora e ha visto il 26enne accasciarsi in campo vogliamo che la persona venga salvata subito ora siamo solo contenti di questo non riporterà in vita il nostro mattia ma almeno sarà utile a qualcun altro i carabinieri su richiesta della procura di firenze hanno sentito i genitori di mattia come persone informate sui fatti e al momento nessuna denuncia formale risulta depositata in procura i militari su indicazioni dei magistrati hanno anche acquisito i referti medici dell'ospedale di careggi e tramite l'acquisizione dei tabulati telefonici verificheranno le tempistiche sull'arrivo dei soccorsi al campo sportivo bocche cucite intanto dalle società calcistiche il lanciotto è in silenzio stampa e il castelfiorentino la squadra di mattia non vuol commentare l'inchiesta perché oltre alla volontà di fare chiarezza su quanto accaduto è soprattutto un momento di dolore per i familiari e gli amici del 26enne fra cui il fratello calciatore elia giani che gioca nel legnano e il cognato gianluca mancini della roma strugenti le parole affidate ai social da sofia la fidanzata di mattia amore mio grazie per esserti preso cura di me e avermi fatto capire il vero amore tu sei e sarai sempre l'amore della mia vita i due erano andati a convivere a san mignato in provincia di pisa da pochi giorni un sogno spezzato sul nascere ti amerò per sempre e fino all'infinito si legge nel post se la persona più pura che abbia mai conosciuto e mi hai sempre promesso che non mi avresti mai lasciata sola ti prego proteggimi per sempre e dammi tutta la forza del mondo da lassù un bacio grande come l'universo per la deputata di forza italia chiara tenerini la tragica morte del giovane calciatore merita ogni approfondimento anche alla luce delle testimonianze che emergono rispetto a quanto accaduto in campo in quel 14 aprile è necessario accertare la verità sui soccorsi sui presunti ritardi delle ambulanze sul defibrillatore e sulla presenza o meno dei medici la figi c regionale toscana ha deciso di rinviare le gare della ventinovesima giornata del girone a del campionato dilettanti di eccellenza in programma domenica 21 aprile saranno giocate la domenica successiva il 28 aprile per gli aggiornamenti su queste notizie per le top news e gli approfondimenti su tutti i temi del giorno andate su ansa.it e ricordatevi di seguire il podcast ansa daily sulla piattaforma su cui ci ascoltate per oggi con daily prime pagine è tutto vi saluto augurandovi una serena giornata